...europeo, Commissione europea dell'ACNUR, di promuovere una commissione di inchiesta internazionale e indipendente sulle modalità di controllo dei flussi migratori in Libia, in seguito agli accolti bilaterali con il governo italiano. E viviamo questa manifestazione oggi che Ghezzi è arrivato in Italia, di avviare rapidamente, vista l'emergenza della situazione, una missione internazionale e umanitaria in Libia per verificare le condizioni delle persone detenute nelle carceri e nei centri di detenzione per stranieri perché ormai documentazione torta ci dice che vengono picchiati, buttati in piccole stanze, buttati fuori nel deserto della Libia, respinti ancora più giù. Il governo italiano e quello libico devono sapere che esiste una mossa critica che da oggi 10 giugno al 20 giugno, giornata del rifugiato, in tutte le città italiane verranno, sono organizzate manifestazioni del genere. Una mossa critica consapevole di quanto accade nei campi libici che manifestano il proprio dissenso e chiede il risultato.